Promobol Sanitars Bienno porta a casa una grande vittoria contro la capolista, la volo femminile Villanuova nell'undicesima giornata del campionato di serie C FIPAV, giocata al palazzetto di Via Marconi di Bienno. Un inizio di anno da incorniciare per le padrone di casa che riescono a combattere fino alla fine e mettere in campo il carattere che Johnny Taramelli, allenatore della Promobol, chiedeva da settimane. Il primo set inizia con Di Giulio, Basalari, Piantoni, Tomasi, Gannar, Marinoni e Bertoletti come libero. La Promobol Sanitars parte bene portandosi subito sull'8 a 3 ma la gara continua serrata fino a 16 pari. Promobol riesce a tenere testa le ospite del Villanuova fino alla 20 a 18 ma un calo di lucidità sbilancia la gara per la pallavolo Villanuova che vince il primo set 21 a 25. Il secondo set inizia con lo stesso sestetto con un solo cambio con Tomasi per Sandrini. Promobol inizia bene ma le avversarie ospiti restano attaccate, gli errori in battuta calano, il gioco migliora visibilmente, la concentrazione aumenta e il secondo set svolta per Promobol che conquista la vittoria con il risultato di 25 a 15. Il terzo set è la fotocopia del secondo per Promobol che mantiene la concentrazione altissima, sposta il gioco al centro e dà il meglio di sé. Gli errori sono inesistenti e la conquista del terzo arriva presto per la padrona di casa sul risultato di 25 a 21. Nel quarto set la gara torna combattuta, gli errori in ricezione e la perdita di concentrazione portano la Villanuova in vantaggio 4 a 6. La gara continua i punti, prima sull'8 a 10 poi sul 9 a 13, punto in cui Taramelli, tecnico Promobol, chiama il primo tempo per serrare le file e riportare un po' di concentrazione in campo. Sul 10 a 15 Tomasi prende il posto di Sandrini in campo, Promobol recupera qualche punto portandosi sul 15 a 18 ma non basta e Taramelli chiama anche il secondo tempo sul 16 a 20. Ha risultato quasi compromesso. Il time out non basta e le ospiti si portano sul 17 a 23. Tiberti, tecnico della Villanuova, chiama il tempo sul 20 a 24 per chiudere la pratica e gli ospiti percepiscono il messaggio chiudendo il set sul 20 a 25. Il quinto set, il tie break, inizia per Promobol con lo stesso sesteto dei precedenti tempi. Taramelli vede una squadra inizialmente sotto tono e chiama il primo tempo subito, sul 3 a 7. Il recupero questa volta c'è e si vede, le ospiti chiamano il time out sul 5 a 7. La gara però prende un'altra piega, Promobol mette in difficoltà la capolista e avviene il grande sorpasso sul risultato di 13 a 12 che diventa la vittoria finale con il risultato di 15 a 13 al tie break e con il risultato definitivo di 3 a 2 per la Promobol Sanitars di Bienno. Sanitars di Bienno.